Il segreto Il segreto, anticipazioni spagnole, la tragica fine di Damian Anticipazioni Il segreto, episodi spagnoli, la morte di Damian. Il successo del segreto su Canale 5 e in Spagna continua. Le anticipazioni spagnole del segreto svelano che uno dei personaggi farà una brutta fine. Si tratta di Damian, il figlio di Hernando Dos Casas. Il ragazzo non è morto nellincendio in cui ha perso la vita la prima moglie di Hernando. E' tornato a Puente Biagio sotto mentite spoglie per vendicarsi di suo padre e di sua sorella Beatriz. Proprio nelle puntate in onda in questi giorni in Italia Damian confesserà la sua vera identità al padre. Hernando lo accoglierà nella sua casa consapevole della pericolosità del figlio. Negli episodi spagnoli del segreto, i telespettatori hanno già assistito alla morte di Damian. Il ragazzo prima ha tentato di uccidere Camila gettandola in un pozzo. Hernando è riuscito a salvare la moglie ma la donna ha perso il bambino che portava in grembo. Dopo, Damian ha rinchiuso Beatriz in uno stabile con l'intenzione di bruciarla viva, anche in questo caso l'intervento del Dos Casas è stato provvidenziale. Hernando cerca poi di salvare Damian che è avvolto dalle fiamme. Il ragazzo confessa al padre di aver ucciso Remedio Sero Gelia ma di essersi pentito. Damian muore tra le braccia del padre, Beatriz assiste alla scena. Il segreto, anticipazioni puntate spagnole, la vendetta di Ulpiano. Le anticipazioni spagnole del segreto svelano che un'altra vicenda che sta tenendo banco in patria in questi giorni è quella di Ulpiano, Adela e Carmelo. Quest'ultimo ha ucciso il marito di Adela per conto di Cristobal ma poi si è innamorato di sua moglie e le ha chiesto di sposarlo. La donna ha accettato ma donna Francisca ha confessato la tremenda verità al figlio Ulpiano. Come può la madre sposare l'assassino di suo padre? Adela è costretta ad annullare il matrimonio. Ulpiano scappa di casa e si rifugia da Mattias e Marcella. Nei giorni seguenti, Ulpiano incontra Carmelo e lo minaccia pesantemente, deve lasciare immediatamente sua madre. Carmelo, disperato, rompe con Adela. Ulpiano non riesce più a guardare negli occhi sua madre. Una mattina, Mattias torna a casa e non trova Ulpiano. Che fine ha fatto? E perché è uscito armato? Dopo la calunnia, nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori de Il Segreto. Lappuntamento con le puntate italiane de Il Segreto è da lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5 e il venerdì a che in prima serata. Lappuntamento con le puntate italiane di Il Segreto.